Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su The Heartful Escape, questo videogioco che fonde musica e platform e psichedelia varia che sto portando in 4K e 60fps su PC sul mio canale. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, dove per tempo dove sono andati tutti? Mitico! Sta suonando Lightman! Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale, per non perdervi i prossimi. Eccolo lì Lightman! Caspita, deve essere l'esibizione di Lightman per il blocco centrale. È un mago! Ok, dove dovremmo andare noi? Vediamo se di qua c'è qualcosa. A quanto pare. Eh no! Che ambizione! Forte! Oh, stanno vedendo il nostro concerto! Questo profacosmo è una nuova stella, spettacolare! Ah, forse dobbiamo fare così, sì? Forte! No, ok, non dobbiamo farlo. Però abbiamo iniziato ad essere famosi. A questo punto andiamo... andiamo sopra. Da Violetta. Sei qui? A quanto pare... NOPE! Sì, è vero che abbiamo un po' più show da andare! Sarà da quest'altra parte, allora sempre nella sua officina? Musichetta all'ascensore! Eccola qui! Perché ti sei rifiutato? Già, tutta la storia del proietto alla mia immagine? Nessuno mi aveva avvisato. Ti avrebbe trasmesso in tutto l'universo! Avrebbe trasmesso i miei laser in tutto l'universo! Perché cavolo ti sei rifiutato? Perché so già che... Se tutti mi avessero visto così vestito, a suonare cose senza senso? Tutti? Intendi Acalipso? Sono tutti quelli che conosco! E che ti importa? Cosa avrebbero mai potuto pensare di te? Capiranno che sono un bluff! Che non sono chi dovrei essere! Che quando ho detto di essere un musicista folk, mi stavo mettendo! Tu non sei Johnson Vendetti! Sei un ragazzino! Non devi aver già deciso tutto! Era già stato deciso tutto per me! E ciò nonostante non ha fatto presa! Ti è chiaro? Persino quando la strada è tanto evidente! Ma sto rivagando! Avresti potuto girare la galassia in tour! Non avresti mai più rivisto Calypso! Perché ti sei rifiutato? Perfetto! Lightman sta rientrando al gate! Vorrebbe scambiare una parola! Ok andiamo da Lightman! Dove? Qui! il gate dovrebbe essere da questa parte! Anche se Lightman è ancora là a suonare! Niente male! Niente male! Eri in ritardo sui fuochi del terzo atto! Eri in anticipo! Lo sai! Deve esserci stato un ritardo nella musica di accompagnamento! Non è colpa di nessuno! Com'è andato il ragazzo? Troms gli ha offerto di proiettare la sua immagine in tutto l'universo conosciuto! Ah, incredibile! Cioè, davvero? Sì! Ha rifiutato! Ha rifiutato? Ma naturalmente! È un artista appena all'inizio dei suoi anni di formazione! Un prodigio! L'apprendista di un maestro! Hai capito l'opportunità che ha mandato a monte? Per noi? Per me, Mark? Il tuo nome non varrà niente se continui a perderti tutti gli attacchi! Non credere che non lo abbia notato! Oh, incazzata Violetta, eh! Quando sarai pronto per il prossimo spettacolo, vieni al gate! Sono pronto per il prossimo spettacolo perché non dovrei esserlo! Che stai combinando? Che stai combinando? Intendi? Se non vuoi farti notare... Perché suoni con la chitarra? Perché balli? Perché stai mettendo su uno spettacolo, eh? Perché non posso far mai meno? Io devo suonare! Perché è quello che si aspettano tutti! Perché le mie mani sono sette di fuoco! Perché è quello che si aspettano tutti! Risposta sbagliata! In più, non ti credo! C'è una scintilla in te, ragazzo! È sotto gli occhi di tutti! Di cosa hai paura? È complicato da spiegare! Hai paura che ti deridano? No! Cioè, sì, ma non è il problema principale! A casa mia ho una certa importanza! C'è chi ha riposto tutte le mie proprie speranze in me, vi ricordate nel primo episodio? Come se dovessi ravvivare una cosa perduta! Sembra un mondo intero sulle tue spalle! Credevo che sarei diventato questo genio del folk! Comincio a realizzare che potrei essere tutt'altro! E mi spaventa! Non darei mai loro quel che vogliono! Probabilmente hai ragione! Ma credi di avere solo due opzioni! Accontentare tutti o fallire! Però non è considerato una terza alternativa! Sarebbe? Sei un artista? Probabilmente non ho scelta! Ci sto lavorando! Sì! Il compito di un artista non è dare alla gente ciò che vuole! Francis? È dar loro qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare! Posso farti una domanda? Mi hai chiesto di seguirti per via di mio zio? Chi è tuo zio? Nessuno! Proprio nessuno! Vabbè ma era ovvio che non glielo avesse chiesto per via di suo zio! Cioè chi se ne frega di suo zio! Questi qui cosa vuoi che gliene freghi di suo zio? Altro caricamento! Sì! Sficciolo! E stiamo andando su un altro pianeta! Uno nuovo a quanto pare! Chi è tu? Donizio! Un raga! 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 Quanto fa le pose da supereroe? Ho ho! Sono dove dovrei essere? È difficile stabilirlo! Che cosa hai uguale? cosa che noti? Un odore di ravioli di gamberi al vapore? Come? Un violento luccichio degli occhi? C'è una voce trasportata dal vento, un tenore, intorno a dei versi su qualcosa di meraviglioso ma perduto. E' nel posto giusto. L'unico palcoscenico su questo pianeta è il lumiere violente. Un jazz club, pacchiano, ultra esclusivo. Hai il piano? Arrivare tardi, lavare presso le tende, rubare la cristianeria, esibirmi come un anemico virtuoso parruccone, morire sul palco o certi riff da radere al suolo in jazz club. Elettrico. E tanti auguri, se vuoi trovare il locale. Che intendi? E' nascosto? Nascosto? No, ma non l'ho mai trovato due volte nello stesso posto. Sono lì e ti rispediranno in volo al polmone. Aspetta, smettila di fare la sibillina. Maledizione. La sibillina. Ok. Andiamo allora. Wow. Pianeta desertico ora, eh. Siamo passati da un pianeta innevato, ghiacciato, ad uno desertico. Però in cui c'è dell'acqua, una sorta di oasi. Aha, ecco come si risuona con loro. Bello. Aja. Ah! Ah! Oh, siamo giusto, camminiamo sulle acque, eh? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Wow! Sei... una visione! Stai vivendo il Wonder Trail? Oh, no! Totalmente. È come stare aggrappati al motore di una navicella rotta di rientro. È come ascoltare un disco suonare in una stanza nel mezzo di un sogno. È una cannonata alla Tchaikovsky. Un pugno nello stomaco. La comparsa di un Wonder Trail è una faccenda complicata. Dove? Con chi? In quale momento? Sotto quale luce? Il Wonder Trail pone queste domande. Qualche le risposte possono rivelare molto di noi stessi. E se volessi rivelare tutto ciò che non sono, non ci sono verità che mi riguardino. Solo un kaleidoscopio. Abbraccia il kaleidoscopio. Cambia le tue squame di conseguenza. Dove stai andando, pesciorino? Mai sentito del Lumiere Violente? Per un po' è stato nel cassetto per il taglio cucito di una messa scolastica. Poi nella voliera di un re. L'ultima volta che l'ho sentito nominare si trovava nei pressi della città di Beige. Ma sono 500 anni che non si dava un solo respiro in quel Beige. Quel posto è morto e sepolto. L'unico ingresso è dal sottosuolo. Attraverso le grotte. Hai vissuto l'onnipotente globoscopico Wonder Trail. Ok. E si va. Lì si sarebbe rotto tantissimo le ginocchia. Che meravigliosi essere barcollante. Sembrano piuttosto sacevoli. Non ho modo di scoprirne il loro nome. Ma se fosse per me li chiamerei schiacciassassi rosa maculati. Ok. Ok. Si suona di nuovo. Questa non è una boss fight quindi in teoria dovrebbe essere più facile di quella precedente. Decisamente più facile. E siamo nelle grotte. Oh bello. Si illuminerà in questo modo. Stavamo per filare Giulia. Il Lumiere Violente. Il Wonder Queen aveva ragione. Si trova nelle grotte. Music Diabolica. Forte. Molto bella questa ambientazione. 초� Statistema. A fine. La minuta. La minuta. Eppure. La minuta. La minuta. Grazie a tutti. Molto bella, mi ripeto. Mi è stoccoso. Il nomiere violente ti dà il benvenuto. Fai parte dei soci? Stasera siamo al completo. No, sono Glacial. Per il talent show. Magnifico, non perdiamo tempo. La folla è in subbuglio. Qui non c'è nessuno. Beh, siamo un locale esclusivo. Giustamente. Mmm. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tua canzone è intensa, profonda, oserei dire, ma calata nel vaso sbagliato. Il suo significato potrebbe deformarsi. Capisco. Insomma, questo è quanto? Lo spettacolo è finito? Hai spaccato. Ti ospito quando vuoi. E buona fortuna per i tuoi viaggi. Buona fortuna? Violetta diceva che mi avresti dato un passaggio fino al cosmo polmone. Temo di no. Come? Avevo un accordo con Beige. Erano loro a traghettare la gente fino al polmone. Niente domande. Usavano una tartaruga gigante. Però hanno smesso di rispondere al telefono. Una tartaruga gigante? Beh, e io che dovrei fare? Questo è il meglio che ho da offrirti. Ingresso per uno alla nuova città di Glimmer. Rigido codice d'abbigliamento. Niente più uno. Cos'è? Quel che resta di Beige. Vuoi prenotare un'altra esibizione? Ti chiamo io. Ok. E siamo arrivati quindi alla città di Beige. Ecco Violetta. Wow. Cosa è successo qui? Abilità. Potere. Repressione. Rivolta. Il solito. E io che faccio adesso? La verità? Non ne ho idea. Continui con le trasmissioni, immagino. Non mi era mai capitato nessuno piedato e abbandonato. Mi prendi in giro? Un tempo qui avevano una tartaruga distorsiva. E adesso dov'è? Secondo me è andata via insieme agli altri. Completamente. Totalmente fantastico. Su con la vita, bambucino. C'è un sacco di gente che si sta sintonizzando. La tua trasmissione è rimbalzata per tutta la galassia. Cosa? Quando? Perché? Tutte ottime domande. La risposta è macabra. Gli ascolti impegnano quando qualcuno resta bloccato. Ah, perché sai com'è? Potrebbe accadere il peggio. Fa buon viaggio, bambucino. Eh. Ok. Vediamo quanto dovremo venire bloccati qui dentro, eh? In questa città beige. Di nome e di fatto. File e file di persone. Tutte uguali. Che è successo a questo posto? È strano, effettivamente. Quelli tra l'altro non mi sembrano persone, sinceramente. Una città. Una città. In colore. In colore. Senza il minimo abbellimento. Ah, c'è qualcuno. Per te hai un problema se la prendo? Oh no. Credo che dovresti rimetterla a posto. Dipende da cosa ci guadagno. Non sei di queste parti, vero tesoro? I tuoi vestiti sono fatti su misura. Niente etichette, niente marchi, nessun segno distintivo. È la prima volta che indossi questo abito. Esatto. I tuoi occhiali. Herman e Funglum. Distribuiti nel centro e nell'est degli USA. Perciò sei un qualche talento fresco fresco dalla Terra, eh? Primo tour? Primo tour. Che spazio? Dove stai andando? Beh, sto cercando di tornare al cosmo polmone. Devo trovare una tartaruga distorsiva. Non so bene da dove cominciare. Una tartaruga distorsiva? L'unica tartaruga distorsiva da queste parti risiede nella città muraria di Glimmer. E dove sarebbe, di preciso? Vuoi un passaggio? Hai un mezzo? Dolcezza. Ho il mezzo. Oddio. A cosa si riferisce? Ok. Complimenti. A cosa si riferisce? 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 Si estende a perdita d'occhio Il posto perfetto per mettersi nel risalto Mi chiamano Frida La mia nave è la Rubicola Sono di là c'è l'eccezionale Senti familiarità con la nave Mi trovi nel salottino Bene e direi che a questo punto Su questa Rubicola in compagnia di Frida Il video finisce qui Ti ricordo di mettere un bel mi piace Se il video ti è piaciuto Di commentare E di iscriverti al canale Per non perderti i prossimi caricamenti Da Glacier Sphere è tutto Al prossimo video